Leggiamo dall'invito lezioni anti-usura e si fa fatica a fare il collegamento con lo sport, invece è importante che anche i ragazzi, soprattutto i ragazzi di una realtà importante come la CESPORT, che mette in acqua e toglie dalla strada tanti ragazzi, sappiano che ci sono anche questi rischi. Sì, sicuramente, a volte sembra difficile il termine usura e sport, ma io credo che lo sport come insieme di regole, come insieme di comportamenti, come possibilità quotidiana di togliere dalla strada numerosi ragazzi nell'arco orario, per dire dal pomeriggio quando escono da scuola, dalle 13 alle 20, sicuramente è un deterrente importante affinché queste bande di malavitosi che poi trovano terreno fertile nell'assoldare anche giovani, lo sport si può innescare bene, perché lo sport, ricordiamo, sono regole, lo sport, ricordiamo, sono comportamenti, sono sinergie, sono possibilità di ambientarsi anche in situazioni che probabilmente non trovano spirito nelle indicazioni personali di ognuno di noi. E quindi con una giusta indicazione, con una giusta educazione cifrica, credo che si possa veramente trovare un nesso importante tra la crescita sportiva e quello che possono essere le situazioni malatitose che tanto purtroppo pervadono la nostra città. Voi oggi ricevete anche un premio, ed è un premio alla passione che ogni anno mettete per questa realtà, per questo quartiere, ma anche all'attenzione che mettete nei confronti dei giovani. Un riconoscimento importante? Sì, è un riconoscimento importante che va oltre quelli che sono i meriti sportivi che, mi permetto di dire, abbiamo raggiunto sia a livello nazionale con le prime squadre che con le squadre regionali, ma è un merito che va anche per il sociale, ricordando che noi comunque da sempre nasciamo proprio per il sociale. C'è il nuoto nelle scuole, negli orari curriculari, la possibilità quest'anno di aver ospitato i bambini del Sarabui con noi, aver avuto la possibilità di fare un quarto tempo in quello che è la partita di pallo a nuoto. Sono tutte piccole cose che chiaramente una piccola società che chiaramente vuole essere sempre presente, ma deve comunque cercare di non fare mai il passo più lungo della gamba, può fare solamente con piccoli ma solidi passi. Quindi noi cerchiamo di essere presenti e quindi di dare il nostro piccolo contributo, ringraziando anche le istituzioni, ringraziando le persone come Enzo Perrotta, che tanto si danno da fare per il nostro territorio, affinché possiamo essere collaborativi e dare una mano per queste iniziative. C'è anche quindi la Fondazione Moscati a dare una mano a quello che è l'attività di SOS Sportello Antiusura. Lo sportello antiusura era stato uno sportello d'ascolto fino a ieri. Nell'accordo che abbiamo fatto con la Fondazione Moscati diventano i fatti di accompagnamento e di operatività per arrivare a portare in prefettura le persone che possono utilizzare la legge. Ricordiamoci che la Fondazione Moscati è l'esperienza su cui si è basato tutto il ragionamento dell'antiusura e dell'antiracket ben 25 anni fa e quindi ringraziamo il padre Rastrelli che ha fatto questa cosa in tutto silenzio, ma l'ha fatta per tutta Italia, non solo per Napoli. La sua esperienza ha prodotto la legge attuale. Noi oggi con esperti, e al Vomero ce ne sono tanti che fiancheggiano, tutti quanti, la maggior parte ex bancari o avvocati delle banche, che dopo la pensione hanno pensato di fare un'azione importante e noi questa la faremo. Vi annuncio che il primo associato che ha avuto questi problemi con un'indagine che sta arrivando alla fine e quindi diventa processo a danno di una famiglia di usurari della zona di pianura Agnano è stato portato da noi, accompagnato. Ci costituiremo parte civile appena si fa il processo e quindi già un primo tassello l'abbiamo fatto, ma speriamo di farne altri perché il fiume carsico che c'è sotto il commercio è l'usura. Mettiamo un altro tassello. Si è parlato nei giorni scorsi di una mancanza di videosorveglianza nella zona. Allora, noi in un'antica battaglia abbiamo fatto con la municipalità quando c'era un sfondamento delle attività con le macchine aerostrate siamo riusciti a far mettere 65 telecamere le quali accendevano, spegnevano, sappiamo ormai da più di 10 giorni con la venuta di Alfano a Napoli che sono accesi. Quindi chi non conosce il territorio forse questo lo sa. Le cose importanti è che in altre zone di Napoli ci saranno altre telecamere. Benvengano.